Immagino che nella mente di qualsiasi pervertito mai esistito sulla faccia della terra sia almeno una volta venuto in mente di comprare, almeno 30-40 anni fa giravano queste cose, quegli occhiali che dicevano di essere a raggi X. E poi, secondo quello che ti diceva una palesissima truffa, saresti stato capace di vedere sotto i vestiti delle persone, e ovviamente qui le uniche persone a finire vittime da queste cose sarebbero state, non lo so, compagni di classe, compagni di università, colleghe e cose del genere. Ecco, questa cosa man mano con gli anni, fortunatamente, ha smesso di vendere, perché per ovvi motivi, ragazzi non lo so, mi sembra stupido doverlo spiegare, però, insomma, se siete convinti che questa cosa funziona perché non posso dire il nome di un'azienda e poi la parola truffa così su due piedi perché altrimenti vado in galera io, voi se non siete convinti, compratele queste cose e poi mi fate sapere. Comunque sia, questa cosa è relegata un po' agli anni 70-80, epoche in cui internet non era diffuso e quindi non potevi fare queste cose qui, facendoti arrivare un pacco a casa, sperando poi nella privacy in queste cose qui. In questa epoca non esisteva. Soprattutto stiamo parlando di un'epoca nella quale la maggior parte delle cose che arrivava per posta, soprattutto posta indesiderata o non attesa, erano riviste hard o bombe. E sinceramente io, immedesimandomi in un genitore dell'epoca, non avrei corso il rischio soltanto per mantenere la privacy di mio figlio, mezzo erotomane, comunque ci siamo capiti. Perché vi faccio questo preambolo oggi? Perché questa cosa in realtà ha continuato a vendere su Telegram. Si chiama Bikini Off ed è un chatbot che a quanto dice spoglia le donne. Si tratta di un uso veramente tanto malevolo dell'intelligenza artificiale e oggi vediamo un attimo di capirci un po' di più. E soprattutto capiremo il perché questo bot può far finire noi che lo utilizziamo nei guai. Ma prima, su Pamplin sono disponibili tantissimi sconti e utilizzando il mio codice Gematria tutto maiuscolo potrete risparmiare sull'intera spesa aggiungendo un ulteriore sconto a quelli già presenti sul sito. E se non fosse abbastanza, con il mio codice ricevete anche un paio di calze gratis. Quindi, se volete aggiornare il vostro guardaroba, farlo con materiali di qualità e design unici, Pampling e dite che vi mando io. Ora torniamo a noi ragazzi, perché questo bot ha generato davvero tantissimi problemi e soprattutto come se non fosse abbastanza, non è gratuito, quindi oggi abbiamo veramente un sacco di cose di cui parlare. Quindi adesso ragazzi, prima di cominciare mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale nel caso non lo aveste ancora fatto. Ma adesso, sigla e poi andiamo a vedere più da vicino Bikini Off. Quanto fa strano andiamo a vedere più da vicino Bikini Off, io non so neanche che video sto facendo. Comunque, buonasera visualizzazioni e bentornate in questa nuova puntata di Sottobosco. Bikini Off è, come detto prima, un chatbot di Telegram che ti garantisce lo spogliare delle donne. Questo bot è salito nelle prime posizioni di ricerca qualche mese fa appunto per la sua particolarità, per via del controverso servizio che mette a disposizione. Come da nome, può infatti letteralmente spogliare di tutti i vestiti una persona in una foto, restituendo un risultato convincente, visto che non si limita a incollare il viso su un corpo nudo. Ma riprende anche la posa e rispetta le condizioni del fisico, così come le proporzioni o la tonalità della persona. Per funzionare, sfrutta infatti dei sistemi basati su un'intelligenza artificiale che possono da un lato analizzare lo scatto e dall'altro modificarlo in pochi secondi con un editing particolarmente efficace. Penso che sia tranquillamente intuibile il fatto che un bot del genere possa generare tantissimi problemi. Soprattutto poi, se si parla di un bot al quale possono accedere davvero tutti, e se dico tutti, intendo tutti, da persone con un minimo di senno a persone che questo senno non ce l'hanno, da persone maggiorenni a persone molto minorenni. E qui c'è un grande problema. C'è stato un caso, infatti, di foto di ragazze di una scuola media in provincia di Roma. Arriverete sicuramente da Sorial perché una cosa del genere sia un grandissimo problema, ma su Telegram queste cose, come vi ho detto tantissime volte, purtroppo sono considerate normali. Il bot non è gratuito, se ve lo state chiedendo, se non per la prima foto. Un po' come se fosse una versione di prova. Gli sviluppatori, infatti, richiedono un pagamento per le successive foto in criptovalute. E ovviamente questa cosa apre le porte degli intermediari davvero poco raccomandabili. Questo non perché le criptovalute siano il pagamento dei criminali, un po' di tempo fa forse sì, ma ad oggi no. Il punto è che la maggior parte delle persone che utilizzerebbero le cripto in una cosa del genere sono persone poco raccomandabili. Ma cerchiamo di capire più da vicino che cos'è all'effettivo Bikini Off, perché per adesso abbiamo visto soltanto la teoria. Bikini Off è un bot di Telegram, ossia un servizio automatizzato da sfruttare sulla piattaforma messaggistica. È stato sviluppato da una società in Estonia, per adesso nota come casa videoludica, una software house chiamata Crystal Future OU, che si presenta affermando sul sito ufficiale che la loro tecnologia di editing fotografico può rimuovere facilmente i vestiti da qualsiasi immagine, lasciando solo lo stretto necessario. Insomma, ovviamente non è che te lo nascondano che si tratta di un sistema per denudare le persone anche contro la loro volontà o anche contro il fatto che queste persone lo sappiano. Per utilizzarlo serve un account di Telegram, poi si può cercare il bot del motore di ricerca interno e iniziare una conversazione. La cosa spaventosa di questo bot è che basta letteralmente una trentina di secondi per generare una foto del genere. La tecnologia basata sull'intelligenza artificiale riconosce dettagli più importanti come la corporatura, l'incarnato, le proporzioni e la posa e sostituirà tutti i vestiti e tutto quello che si vede in foto con un nudo convincente. La cosa più terrificante di questa roba è che tutto quanto è velocissimo e semplicissimo da usare. Basta davvero semplicemente caricare una foto, avere un attimo di pazienza e si può rovinare la vita a una persona. Di certo le foto create non sono perfette perché se si aprono su un display più grande e definito come quello per esempio di un computer perché la maggior parte di queste cose ovviamente viene fatta su smartphone, si possono notare difetti come incongruenze tra le sfumature della pelle e in generale corpi sempre troppo perfetti per essere credibili. Tuttavia ricordiamoci sempre che questo tipo di cose purtroppo vengono pensate per scopi molto meno leciti di fini artistici o magari di una mostra fotografica per dire. Bikini off come abbiamo detto non è gratuito se non per la prima foto. Infatti al primo accesso ci verrà detto che Bikini off ci garantirà un solo credito da poter utilizzare per una singola foto. Dopodiché serviranno dei crediti sia per le successive foto sia per dimezzare i tempi che andranno da 30 secondi a 15 secondi. Per continuare a denudare la gente infatti serve dunque pagare gli sviluppatori che prediligono guarda un po' le cripto così da evitare la maggior parte dei problemi e la maggior parte dei rintracciamenti almeno quelli più semplici. Parliamo di cifre però. Quanto si spende su quest'app? 10 crediti vengono all'incirca 5-7 euro per arrivare a un totale di circa 60-70 euro per avere 500 crediti. Capirete bene che non si tratta di cifre astronomiche perché 70 euro ce li hanno tutti ma si tratta comunque di cifre che io sinceramente non spenderei. a parte che si tratta di un qualcosa di estremamente immorale ma sinceramente 70 euro per fare questa cosa qui ma quali sono i rischi di usare Bikini Off? Il bot suggerisce di seguire un sottocanale interno chiamato P2P. Questo canale mette in contatto le persone che usano Bikini Off con degli intermediari che più che intermediari perché questo qui è il nome con cui vengono chiamati in realtà degli utenti anonimi che offrono e vendono dei pacchetti di crediti. Non più di questo. Se non si possiedono criptovalute pronte all'uso si viene rindirizzati su siti che offrono tassi di scambio peraltro del tutto fuori mercato quindi oltre a mettere in pericolo la propria navigazione si mette in pericolo proprio se stessi perché si viene mandati su portali discutibili dei quali a prescindere sarebbe meglio stare alla larga figuriamoci per fare una cosa del genere. Però i veri rischi penso quasi che ce ne siamo dimenticati in questo video ma in realtà no ci stavo solo arrivando sono per chi finisce vittima di questa roba perché si genera un qualcosa che non è mai successo praticamente dei deepfake che semplicemente non sono mai esistiti foto inudo che non sono mai state scattate e in questo modo le persone possono addirittura generare del revenge porn senza neanche mai averla vista davvero senza vestiti una persona. Ci sono già peraltro dei casi accertati come quello che riguarda una scuola media in provincia di Roma in cui i protagonisti erano due quattordicenni che diffondevano foto nude delle proprie compagne di scuola. Questi due tizi sono stati accusati di produrre materiale esplicito di minori perché all'effettivo questo è. L'intelligenza artificiale sta facendo così tanto di passi da gigante da far diventare queste cose dei reati in tutto e per tutto perché a prescindere lo sono. Per quale motivo dovresti metterti a produrre una cosa del genere di un'altra persona? Punto uno. Ma punto due. Per quale assurdo motivo dovresti fare una cosa del genere? Tolto il fatto che non hai assolutamente la garanzia che anche non diffondendo queste cose anche semplicemente producendo questa roba qua tu che ne sai dove finisce questa foto? Questo bot in qualche modo se le salverà le cose e qualcuno potrebbe averlo. Cioè tu non puoi sul serio pensare di poter fare una cosa del genere con un servizio di terze parti e che quella foto non vada a nessuna parte è un qualcosa di così incosciente che mi sembra addirittura fantascienza. Comunque sia questo era bikini off e questi sono tutti i rischi che si corrono a usare una cosa del genere. Io ovviamente ragazzi questo video ve l'ho fatto come sempre a scopo informativo anche perché cioè non vi ho strizzato l'occhio a niente e mai sarà mia intenzione fare una cosa del genere perché non esiste. Vi ho fatto tutto questo spiegone per farvi capire nel dettaglio perché utilizzare una cosa del genere è una pessima idea da qualsiasi parte si guardi la cosa perché ci andate di mezzo voi e rovinate probabilmente la vita ad una persona senza che magari vi abbia fatto niente, capito? Quindi detto questo fatemi sapere se conoscevate già questo abominio di applicazione e che cosa ne pensate. Detto questo ragazzi io vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi e noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti i nostri spettatori